va ora in onda radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica un cordiale saluto a tutti da massimiliano spiriticchio in studio e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne apriamo con la cronaca è stato identificato l'uomo deceduto sul corso in berto montesilvano a causa di un probabile malore affiora una storia di solitudine ed alcol si tratta di un uomo di 49 anni di nazionalità italiana è stato visto barcollare con un cartone in mano probabilmente una bottiglia di vino e poi accasciarsi all'improvviso sul marciapiede vicino al semaforo dell'incrocio con viadige subito soccorso dei passanti sul posto sono state sono poi arrivate le ambulanze del 118 i cui medici hanno provato a rianimarlo senza riuscirci non si tratterebbe di un clochard cioè un barbone torna all'emergenza maltempo in abruzzo dopo il nuovo avviso del dipartimento nazionale di protezione civile che parla di condizioni meteo avverse per le prossime 24 ore lo faceva già da ieri sera quindi parla di oggi colpito in particolare colpita in particolare la provincia di chieti dove sono diversi i paesi come vedremo tra poco in cui le scuole sono chiuse tua azienda unica regionale dei trasporti fa sapere che il servizio di trasporto scolastico ha subito alcuni ritardi sulle corse con provenienza dai paesi dell'entroterra in particolare torricella rocca scanegna e villa santa maria i collegamenti con pizzo ferrato sono per ora regolari ma con tendenza a peggiorare visto le abbondanti precipitazioni in atto ritardi si registrano anche nei collegamenti per quanto riguarda l'alto chietino sull'abruzzo sono previste ancora nevicate al di sopra dei 200 metri con apporti al suono da deboli e moderati fino ad abbondanti per le quote collinari e montane e a seguito dell'avviso meteo le protezioni civile regionale per eventuali attivazioni di emergenza ha messo in stato di preallerta le organizzazioni di volontariato della protezione civile convenzionate a partire dalla notte del 9 gennaio quindi da due notti fa per le successive notti per garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi la protezione civile invita le amministrazioni comunali a verificare la disponibilità del proprio personale a prendere contatti con le ditte convenzionate per lo sgombero neve a verificare la disponibilità e l'efficienza di materiali e mezzi a disposizione a mettere in atto ogni attività necessaria e prevista nei piani di emergenza per dare ampia diffusione alla cittadinanza delle norme di autoprotezione per informazioni aggiornamenti c'è il sito allarme allarmeteo punto regione punto abruzzo punto it ma ecco l'elenco delle scuole chiuse oggi chieti lanciano teramo e in provincia di chieti poi le scuole chiuse anche a castelfrentano palena a pizzo ferrato questo in questa località pizzo ferrato scuole chiuse anche domani come si è già deciso villa santa maria guardia grele rapino bomba pretoro rocca scanegna gesso palena casa languida montazzoli celenza sul trigno crecchio rocca montepiano san martino sulla marruccina orsogna villa maglia bucchianico vacri acri filetto giuliano teatino rocca scalegna perano in provincia di pescara le scuole sono chiuse appenne città sant'angelo loreto protino civita quana farindola letto manoppello moscofo e atri cambiamo argomento donati gli organi del 22enne di pescara morto in ospedale dopo nove giorni di coma per le lesioni riportate in seguito alla caduta dal balcone del secondo piano di una palazzina di città sant'angelo la sera di capodanno il giovane purtroppo non si è mai ripreso nell'episodio si sono occupati i carabinieri della stazione di città sant'angelo e della compagnia di montesilvano la caduta del 22enne sarebbe dovuta ad una distrazione durante i festeggiamenti grazie alla generosità del ragazzo e dei genitori sono stati donati cuore fegato pancreas reni e corne che permetteranno di salvare altre vite umane all'ospedale di pescara sono arrivate le diverse equip il cuore è andato in veneto il fegato nel lazio un re nel pancreas in un re nelle corne all'aquila sono 636 caboscia appendinici censiti nel 2018 nel parco nazionale abruzzo lazio e molise di cui 117 sono nuovi lati con un tasso di natalità del 18 per cento la popolazione di caboscia appendinico nel parco nazionale d'abruzzo lazio e molise viene monitorata annualmente attraverso conteggi in simultanea che si svolgono in estate e in autunno lungo 34 percorsi ripetuti su due giornate consecutive nel monitoraggio realizzato nel 2018 per un totale di otto giornate di campo sono stati impegnati oltre 60 operatori tra personale del servizio scientifico guardia parco carabinieri fossili e volontari a queste giornate se ne aggiungono altre due effettuate a dicembre su postazioni fisse in un'area boscosa in molise osservabile solo dopo la caduta delle foglie le conte del 2018 hanno restituito un numero minimo di 630 osservabile scusate un numero minimo di 636 cabosci di cui 117 nuovi lati capretti o kid pari ad un tasso di natalità del 18 per cento il tasso di sopravvivenza al primo anno è stato del 67 per cento con un totale di 93 yearling animali di un anno avvistati un valore analogo a quello riscontrato nelle altre popolazioni in accrescimento l'ex scuola dell'infanzia di caprara diventerà un deposito museale lo ha deciso la giunta comunale di spoltore che destinerà la struttura anche ad eventi e manifestazioni culturali da una ventina d'anni il deposito archeologico della soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio dell'abruzzo ha sede in una porzione di villa cerbo della parte non ancora ristrutturata la giunta comunale di spoltore ha cercato una sede alternativa per liberare lo spazio dai reperti e permettere le necessarie operazioni di bonifica risanamento e recupero dei locali i funzionari della soprintendenza teatina hanno già effettuato un sopralluogo per effettuare l'idoneità della sede che in ogni caso sarà provvisoria al via lunedì il servizio sperimentale di sorveglianza nell'area di risulta pescara si tratta di un progetto recepito dall'amministrazione su istanza del gruppo consigliare del pd e richiesta di diverse categorie cittadine ieri la presentazione del servizio che interesserà tutta l'area di risulta partirà dalle 17 e andrà avanti fino alle 24 e fine settimana venerdì e sabato protraendosi fino alle 3 di mattina sarà svolto in sinergia con le forze dell'ordine in quanto preposte di intervenire qualora si manifestino situazioni di flagranza di reato manca davvero poco i residenti di via torrente piomba montesilvano e via di volci sempre a montesilvano riceveranno risposte concrete alle loro lecite richieste non appena le condizioni meteo miglioreranno infatti prenderanno il via i lavori di realizzazione delle linee di acque bianche risolvendo quindi le problematiche che si vengono a creare a causa degli allagamenti ancora una volta questa amministrazione analizzato da vicino situazioni di disagio che provengono dal passato rimboccandosi le maniche ponendo con concretezza soluzioni di interventi necessari da decenni ma mai realizzati lo dice l'assessore lavori pubblici del comune di montesilvano valter cozzi l'amministrazione ha predisposto due distinti interventi il primo sull'ultimo tratto di via torrente piombe in prossimità dell'intersezione con via bradano consiste nel completamento della linea delle acque bianche il secondo sarà effettuato su via dei volsci dove l'assenza della linea causava significativi allagamenti alla fine della strada in prossimità di alcune case ricordiamo il corso di formazione organizzato dall'arcidiocesi di pescarapenne sul tema le persone con disabilità problema o risorsa nella comunità al via il prossimo 18 gennaio con il incontro con suor veronica donatello responsabile del settore per la catechesi per persone disabili dell'ufficio catechistico nazionale della cei la conferenza episcopale italiana sul tema il volto della persona disabile l'inclusione sociale questo incontro così come tutti gli altri si terrà nell'aula magna dell'istituto toniolo in piazza san cetteo 2 a pescara dalle 18 e 30 alle 20 e 30 lo ripetiamo del prossimo 18 gennaio e siamo le previsioni del tempo oggi su pescara e provincia si prevedono sulla costa pioggia fino alle ore centrali cielo coperto nel resto del pomeriggio pioggia nelle prime ore della sera e cielo nuvoloso in tarda serata con temperature da 2 a 6 gradi e 20 moderati e nelle zone interne neve fino alle ore centrali pioggia nel primo pomeriggio e cielo coperto nel resto del pomeriggio ed in serata con temperature da 1 a 2 gradi e 20 deboli in mare è previsto mosso era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da massimiliano spiriticchio in studio da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne a voi tutti grazie per averci seguito a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti